Dalla Santa Casa di Loreto, trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario, con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dal Santuario della Santa Casa di Loreto, Cappella dei Santi Pellegrini, preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario, in comunione con tutti coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo, Maria Madre della Chiesa, per la Santa Chiesa di Dio, sparsa nel mondo. Il Signore rende efficace la sua testimonianza e la sua evangelizzazione in tutte le nazioni della Terra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, ed è la concepita per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte, ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte, ame. E il verbo si fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte, ame. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo esti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre, tu che nell'anusio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risoluzione, per Cristo nostro Signore. Ave, piena di grazia, ave, Vergine Maria, ave, piena di grazia, ave, Vergine Maria. Nel primo mistero della gioia, contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre Nostra, qui è sincero e santificato il tuo nome e il tuo nome, adveni al reio e il tuo nome, fiat volontà sua, sicuramente in cielo e in terra. Padre Nostro, in Puglian, da nobis odie, ed emite a nobis debita nostra, sicuramente a nobis debita nostra, sicuramente a nobis debitoribus nostris, e ne nobis in tuca sin tentazione, se te libera la nostra malo, ame. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui, mulieribus, ed benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora con nobis peccatoribus, nunc et in ombis nostri, ame. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui, mulieribus, ed benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora con nobis peccatoribus, nunc et in ombis nostri, ame. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui, mulieribus, ed benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora con nobis peccatoribus, nunc et in ombis nostri, ame. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui, mulieribus, ed benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora con nobis peccatoribus, nunc et in ombis nostri, ame. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui, mulieribus, ed benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora con nobis peccatoribus, nunc et in ombis nostri, ame. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui, mulieribus, ed benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora con nobis peccatoribus, nunc et in ombis nostri, ame. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui, mulieribus, ed benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora con nobis peccatoribus, nunc et in ombis nostri, ame. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui, mulieribus, ed benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora con nobis peccatoribus, nunc et in ombis nostri, ame. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui, mulieribus, ed benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora con nobis peccatoribus, nunc et in ombis nostri, ame. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui, mulieribus, ed benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora con nobis peccatoribus, nunc et in ombis nostri, ame. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli, ame. L'ho dato sempre sia, il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel secondo mistero gioioso, contempliamo la visita di Maria alla Cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così intera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra mora, te ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra mora, te ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra mora, te ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra mora, te ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra mora, te ame. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli, dei secoli. Amen. Nel testo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù nella povera grotta di Betlemme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così terra. Gacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci la tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, regina della pace, prega per noi, prega per noi. Je vous salue, Maria, pleine di grasse, il Seigneur è con voi. Voi siete benissi in tutte le donne, e Gesù, il frutto dei nostri debiti, è benissi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Maria, pleine di grasse, il Seigneur è con voi. Voi siete benissi in tutte le donne, e Gesù, il frutto dei nostri debiti, è benissi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Maria, pleine di grasse, il Seigneur è con voi. Voi siete benissi in tutte le donne, e Gesù, il frutto dei nostri debiti, è benissi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Maria, pleine di grasse, il Seigneur è con voi. Voi siete benissi in tutte le donne, e Gesù, il frutto dei nostri debiti, è benissi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Maria, pleine di grasse, il Seigneur è con voi. Voi siete benissi in tutte le donne, e Gesù, il frutto dei nostri debiti, è benissi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Maria, pleine di grasse, il Seigneur è con voi. Voi siete benissi in tutte le donne, e Gesù, il frutto dei nostri debiti, è benissi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Maria, pleine di grasse, il Seigneur è con voi. Voi siete benissi in tutte le donne, e Gesù, il frutto dei nostri debiti, è benissi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Maria, pleine di grasse, il Seigneur è con voi. Voi siete benissi in tutte le donne, e Gesù, il frutto dei nostri debiti, è benissi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Maria, pleine di grasse, il Seigneur è con voi. Voi siete benissi in tutte le donne, e Gesù, il frutto dei nostri debiti, è benissi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Maria, pleine di grasse, il Seigneur è con voi. Voi siete benissi in tutte le donne, e Gesù, il frutto dei nostri debiti, è benissi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, Nei secoli, nei secoli, nei secoli. Amen. L'ho dato sempre sia, il Santissimo nome di Gesù, Eppe Maria. Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio e la purificazione di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come il cielo così intera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. Dios te salve, Maria. Prendi a noi da una cosa, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e ben dita è il frutto di tua vita, Gesù. Santa Maria, Prendi a noi, prego per noi, prega per noi, alle nei secoli. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve, Maria. Prendi a noi da una cosa, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e ben dita è il frutto di tua vita, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nel nome della nostra morte, amén. Dio te salve, Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito è il frutto di tua vita, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nel nome della nostra morte, amén. Dio te salve, Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito è il frutto di tua vita, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nel nome della nostra morte, amén. Dio te salve, Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito è il frutto di tua vita, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nel nome della nostra morte, amén. Dio te salve, Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito è il frutto di tua vita, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nel nome della nostra morte, amén. Dio te salve, Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito è il frutto di tua vita, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nel nome della nostra morte, amén. Dio te salve, Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito è il frutto di tua vita, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nel nome della nostra morte, amén. Dio te salve, Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito è il frutto di tua vita, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nel nome della nostra morte, amén. Dio te salve, Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito è il frutto di tua vita, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nel nome della nostra morte, amén. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, Nei secoli dei secoli, amén. L'ho dato sempre sia, il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori nel Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, e rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci la tentazione, ma liberaci dal male, amén. Maria, regina della pace, prega per noi, prega per noi, prega per noi. Peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amén. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amén. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, amén. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, 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 prega per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esso e nell'ora della nostra morte, amore. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esso e nell'ora della nostra morte, amore. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esso e nell'ora della nostra morte, amore. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esso e nell'ora della nostra morte, amore. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esso e nell'ora della nostra morte, amore. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esso e nell'ora della nostra morte, amore. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esso e nell'ora della nostra morte, amore. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esso e nell'ora della nostra morte, amore. Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esso e nell'ora della nostra morte, amore. Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esso e nell'ora della nostra morte, amore. Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre di Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre sempre Vergine, Madre degna d'amore, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli infermi, Rifugio dei peccatori, Conforto dei migranti, Consolatrice degli afflitti, Aiuto dei cristiani, Regina degli angeli, Regina dei patriarchi, Regina dei profeti, Regina degli apostoli, Regina dei martiri, Regina dei confessori della fede, Regina delle vergine, Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo, Regina del rosario, Regina della famiglia, Regina della pace, Regina prega per noi, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Ascoltaci Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi, Regina prega per noi, Santa Madre di Dio, Perché siamo resi degni delle poesse di Cristo, Regina preghiamo, Signore Dio della pace, infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace, Signore Dio di Abramo e dei profeti, Dio amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno attigiani della pace, donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino, per Cristo nostro Signore, Amen, sotto la Tua protezione, cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, O Vergine gloriosa e benedetta, per tutti i defunti l'eterno riposo, donna loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, Amen, il Signore sia con voi e con il tuo spirito, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, Amen, andate in pace, rendiamo grazie a Dio. In questo Tempio Santo a te, Madre, noi veniamo, pien di fede e di speranza, come l'angelo ti salutiamo, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave. Coltossi in questa casa, il Divin Verbo si fece carne, e te, Vergine tutta santa, portasti al mondo il Salvatore. Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto, l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.